La mobile di Roma avesse detto, noi abbiamo chiesto i tabulati telefonici dell'IAG, ma la SIP ci ha risposto che non vi possiamo dare le chiamate in ingresso e in uscita perché sono trascorsi più di tre giorni e la cosa è morta lì. Allora però mi sembrava di capire che lei aveva qualche dettaglio in più, prego professore. Sì, ci sono state varie versioni, diciamo che iniziamo un po' la storia a vedere, a inquadrare storicamente la cosa, quindi nel corso degli anni 80 si sviluppano le centrali numeriche, prima erano elettromeccaniche, quindi conteggiava ogni scatto e basta. Il telecom era monopolista, in qualche modo la centrale a cui era attaccato il doppio telefonico dell'utenza finale contava gli scatti e poi gli scatti corrispondevano a 127 lire a scatto e tanto fatturava, tanti scatti per 127, nessuno poteva dire niente. Quello che risultava alla telecom era Vangelo. Però vabbè, ci sono stati fatti che poi tanta gente non si trovava con le bollette per qualche motivo. Alcune hanno avuto delle bollette milionarie che erano assolutamente assurde per il tipo di traffico che facevano. E quindi come hanno fatto queste persone? Hanno dovuto pagare? Beh, ci sono stati infiniti contenziosi, chi ha fatto causa, c'erano un sacco di cause civili, la telecom diceva non si può andare a vedere nella centrale, non dava l'autorizzazione. Cause civili, poi si formò di rituro un'associazione vittime della telecom, perché non c'era verso. Scusi, professore, volevo capire, facciamo finta che io sono all'epoca dei fatti, nel 1988, un'anziana signora di 80 anni che ho il telefono per ricevere le telefonate da mio figlio, dalla nuora, eccetera, e faccio un paio di telefonate ai miei vicini e magari mi arriva una bolletta bimestrale di 400 mila lire. Sì, anche di più, una bolletta mignola. E quindi dico, ma come mai tutti questi soldi? E loro mi dicono, no, va bene così, non si può approfondire. Il telecom era monopolista, era autorizzato a mettere fatture senza dare nessun riscontro del servizio reso. E che succede se non pago la fattura? E tagliano i fili, tagliano il telefono, molto semplice, tagliavano il telefono e basta. E poi, finché non veniva risaldato il conto, non lo riattaccavano e forse non accettavano neppure più come cliente, non so. Avevano un po' il coltello dalla parte del manico. Esattamente, era monopolista, faceva quello che voleva, nessuno poteva dire niente. Non c'era qualcuno che li controllava, questi… No, anzi era una potenza politica la telecom al tempo. Nessuno osava, neppure i giornalisti, nessuno osava dire nulla contro la telecom. Anche perché magari faceva un po' di pubblicità sui giornali o comunque… È un grande centro di potere. Poi aveva un po' un monopolio del… In teoria, poteva anche sapere delle cose che non si dovevano sapere. Aveva anche un certo potere di ricatto. Registrazioni, intercettazioni… Le intercettazioni già c'erano, si potevano fare le intercettazioni, però… Se dice, se qualche birbaccione intercetta quel tale imprenditore, poi lo tiene in scacco. Sì, anche. Ho capito. O anche i politici. Era meglio tenersela buona. Diciamo che la politica era meglio che si tenesse buona la telecom. Per cui gli c'era a fare… Eh, per accarezzare con cura, ho capito. E con cura venne anche il sospetto che… La telecom, fra l'altro, negli anni dell'85 al 90, ha fatto degli investimenti ingentissimi. Tutta la rete fu rimodernata completamente. Cioè, soltanto nel periodo 86, 88, 87, 88, la Italtel installò 500 centrali numeriche. Partiva naturalmente dalle grandi città. Quindi siamo nell'88, praticamente tutte le grandi città avevano centrali numeriche. Numeriche vuol dire che si è superato il sistema degli scatti. Ci sono le centrali che parlano con un computer e comunicano il cosiddetto CDR. Cioè, il CDR è il numero chiamante, il numero chiamato, la data e ora in cui è venuta la chiamata e alla fine della chiamata la data e ora in cui si è conclusa. Mandavo questi dati al sistema centrale che provvedeva poi, due mesi dopo, a fare la fatturazione. La fatturazione, fra l'altro, dipendeva dal numero chiamato. Perché, chiaramente, la teleselezione aveva prezzi diversi. Addirittura erano nati cellulari nel luglio 90, che avevano un prezzo esorbitante, ma comunque diversi. qualsiasi numero fisso poteva chiamare un cellulare. Per cui, necessariamente, doveva, in base al numero chiamante e chiamato, fare una telifazione ad hoc. Allora, vediamo se provo a interpretare quello che lei ha detto. Cioè, prima, quando c'era il sistema meccanico, se io chiamavo all'interno del mio vicino di casa, lo scatto faceva tic ogni sei minuti. Se però chiamavo il mio cugino, che sta a Lampedusa, lo scatto faceva tic ogni dieci secondi. Quindi, alla fine, io mi ritrovavo in un bolletto, un numero di scatti, che vattene la pesca, perché ce li ho, devo pagare zitto e muto. Ho capito. Dopo, invece, col CDR, viene cambiata, c'è traccia, inizio telefonata, fine telefonata, numero chiamante, numero chiamato. E inizia la cosiddetta teleselezione. Ho capito, guarda, è riuscito a spiegarlo anche a me e, secondo me... Ecco, prima, addirittura, non c'era il tutto. Cioè, il telefono urbano a tempo. Un telefono urbano poteva durare finché si voleva. Non c'era... Anzi, se il chiamato metteva giù il telefono, la telefonata rimaneva in piedi. Poi si rilasciava sul telefono e si ricontinnava a parlare. Pronto, chi parla? Questa era tipica delle centrali meccaniche? Mi ricordo. Per cui uno blocchiava, poteva anche divertirsi a bloccare il telefono. Faceva un numero, poi non metteva mai giù e bloccava il telefono di chi voleva. Poi con le centrali meccaniche, numeriche, questa cosa si è risolta in quegli anni. Quindi, teoricamente, io potevo chiamare un numero della polizia, lasciare sul telefono... Beh, magari lì erano un pochino più protetti, però non so. Un po' più smart. Per esempio, anche adesso non si può fare il forward sul numero della Decade 1. Cioè, non posso girare il mio telefonino sul 113, perché la centrale non ammette la deviazione di chiamata sui numeri in Decade 1. Per esempio, c'era un po' di protezioni di qualche tipo. C'era un cosiddetto blocco utente disturbatore. C'era questo strano PUD. Quindi, avere la possibilità alla Telecom comunque di bloccare alcuni numeri. Certo, è anche vero che il diavolo fa le pentole, ma non fa i coperti. Quindi, questi birbaccioni sono sempre in giro a inventarne una nuova. Per bypassare i controlli. E quindi diceva, nel 90... Dunque, la Telecom quindi ha fatto grossi utili, ma anche grossi investimenti. E qualcuno poteva anche avere il sospetto che macinasse utili. Quando aveva bisogno di fare utili in più, aggiungeva qualche scatto qui e là. Tanto nessuno se ne accorgeva. Non so se avevo 20 milioni di utenze. Si faceva abbastanza in fretta. Una roba a pioggia? Oppure... Perché? Sono stati ben attenti a non farsi scoprire. Ho capito, a pioggia. C'era qualche sospetto, però, diciamo, Vivi lascia vivere. La politica aveva tutto l'interesse a lasciare tranquillo la Telecom. La Telecom era una potenza per vari motivi. Certo, perché se no... Anche per fare investimenti assumeva gente. Aveva decine di migliaia di dipendenti, la Telecom. Gente che andava a tirare fili di rame. Cioè, era un guai a toccare la Telecom. Era una potenza assoluta. Io non ho mai lavorato in Telecom. Lei? Prego. No, dico, lei ha mai lavorato in Telecom? No. Per la Telecom era il mio cliente. Per la Telecom. Era un suo cliente. Certo. Noi avevamo venduto... All'epoca abbiamo... Il Data Gen era uscito con un mini... Un laptop. Il primo laptop del mondo, che si chiamava VG1. Ed era grande come un foglio A4, pesava 5 kg, però era portatile. E la Telecom ne comprova da ben mille, costava circa 5 milioni, una cosa del genere. Quindi una fada di 5 miliardi. Perché in questo modo la gente, anziché andare in giro con i pacchi di manuali alti mezzo metro, metteva tutto su un PC, un PC, un X86, un X86, con un flop da 3,5, quindi primissimi al mondo. Abbiamo introdotto i flop da 3,5 e con questo laptop andava in giro. Aveva gli schemi di dove doveva mettere le mani, sulle centrali. Attimamente andavano in giro con i chili, decine di chili di manuali. Adesso ho capito, me li ricordo questi computer. Erano proprio dei parallelepipedi, con gli spigoli vivi. Il DG1 era un vero e proprio laptop, che si apriva, pesava 5 kg, bianco, ma nell'86 era assolutamente innovativo. Non c'era niente del genere, c'erano soltanto dei portatili con una maniglia che pesavano come una valigia. E comunque non erano pratici da portare in giro. Invece il DG1 faceva il suo onesto lavoro, con i flop da 3,5, fra l'altro quindi molto, molto, molto portatile. Addirittura riuscivamo a attaccarci un modem, quindi un modem con i primi telefoni cellulari nell'inizio degli anni 90. si poteva fare per la prima volta nel mondo collegamenti alle computer centrali in completa mobilità, persino da un'automobile, abbiamo fatto gli esperimenti. Riuscivamo ad attaccare il DG1 a un modem analogico e collegarsi da stand in auto su un computer centrale. Ho capito. Per noi assolutamente entusiasti di questo la Telecom. Per l'ora è stato un cambiamento epocale. Comunque abbiamo fatto un sacco di investimenti negli anni 87, 88, 89. Hanno installato 500 centrali numeriche. A questo punto dei Moloch tipo la Telecom per fare un progetto ci mettono anni, quindi loro erano già pronti verso 87, 88 a dare, a tenere conto del traffico e quindi dare conto, a registrare su un computer centrale i CDR e quindi avevano traccia del traffico. Addirittura poi nel 90, quando nel luglio 90, marzo 90 parte la sperimentazione dei TACS, i telefoni cellulari analogici. A luglio viene pubblicizzato il servizio in occasione dei mondiali del 90, ne danno un centinaio ai VIP in modo che vanno in giro a farsi vedere con questo enorme scattolone appoggiato all'orecchio per telefonare. E mi ricordo che all'epoca avevano creato un sistema apposta soltanto per contabilizzare i cellulari, interagivo col sistema centrale della telefonia fissa, però era staccato, perché è una tecnologia nuova, quindi abbiamo fatto il sistema nuovo, facciamo tutto nuovo. Ricordo che poi l'abbiamo smantellato nel 2005 quel sistema per farne uno, sostituirlo con un altro e ho partecipato anche a progettare il sostituto. quando viene dismessa completamente la tecnologia TACS per dare le frequenze ai cellulari e ad altri servizi. Ecco, la tecnologia TACS è sempre un telefono portatile? Sì, erano i primi cellulari, però analogici. Analogici. C'era una banda, trasmettevano su una frequenza, come fosse delle radio in una moderazione di frequenza, in chiaro, per cui chiunque aveva uno scanner poteva ascoltare tutte le conversazioni di Milano tranquillamente. Per questo che vengono poi sostituiti? Anche per questo, sì, ormai è una tecnologia completamente, è stata una tecnologia di passaggio prima che arrivasse il GSM, cioè la tecnologia completamente digitale su On Air. Tra l'altro il TACS aveva il numero di telefono associato al seriale, quindi quando si andava nel negozio Telecom, uno apriva il telefono, leggeva il numero seriale, associava il numero telefonico e le bollette poi andavano su quel numero telefonico. Quindi il primo hacker che clonava il numero seriale faceva la telefonata che voleva e la debitava. Cioè la Telecom non era capace di distinguere che ci fossero lo stesso numero di telefono con due seriali diversi. Il GSM, questo è perfettamente possibile. Noi mettiamo una SIM, la SIM dentro ha un codice, quando si inizializza la SIM il computer manda un codice che è un po' come fosse la chiave di criptografia privata. Se c'è un'altra SIM che viene messa dentro con lo stesso numero, automaticamente annulla il codice dell'altro. Per questo ha precluso completamente la possibilità di clonare i telefoni GSM. Già questo è stato un passo avanti enorme. Tutta la telefonia GSM è completamente criptografata in to end. Nessuno è mai riuscito a che si sappia o ne era a fare un'intercettazione. Per fare un'intercettazione bisogna andare a mettere una spia sul telefono come è stato fatto recentemente con un Trojan oppure mettersi in ascolto sulla centrale. Per esempio qui a Milano in Vodafone la costura aveva un ufficio apposta dove quelli che facevano l'intercettazione stabilivano di collegare appunto a certa utenza alla registrazione in modo da registrare su disco tutto il traffico di chi l'ha segnalato. Oppure anche a individuare per esempio con la precisione di pochi metri si può individuare un telefono anche facendo solo triangolazioni con le celle senza ritrovare alla GPS con la precisione di 10 o 20 o 100 metri si può precisare si può chi stava lì in questura che dicevano intercettami dimmi dove si trovava questo numero al volo potevano dire con precisione dove si trovava quel numero di telefono. Deve avere campo. Ho visto di persona perché ero lì a lavorare per cui lo so come funziona. Deve avere campo ovviamente quindi sei in un subway Sì oppure dove è stata l'ultima volta che ha avuto campo dove è entrata quella fermata dell'emmetro in cui è entrata per esempio. Certamente. E quindi insomma a Bia Poma non si riesce a tirare fuori questi tabulati? Dunque abbiamo l'evidenza che ci fossero a Roma nelle grandi città ci fossero centrare numeriche. C'è anche un altro fatto come dicevo prima nell'89 a Telecom ci sono cambiamenti vari e decidono di fare pace in qualche modo di rifarsi la facciata di fare pace con i clienti quindi dicono va bene pubblicizzano su tutti i giornali si può andare a vedere ancora adesso i giornali del giugno 89 che dicono da luglio ci sarà la bolletta trasparente quindi chiunque vuole potrà avere sulla propria bolletta l'elenco di tutte le chiamate effettuate pagando ben 30 lire più IVA per ogni chiamata documentata e questo era scritto anche sulle bollette dell'epoca che c'era questa facoltà per cui è una cosa assolutamente nota a tutti che si poteva avere la documentazione del traffico telefonico e se si poteva averla volevo dire che la Telecom la teneva almeno due mesi perché la centrale telefonica mandava il CDR al sistema centrale e questo lo teneva fino a quando doveva essere messa la bolletta a questo punto andava sul sistema di fatturazione questo faceva i conti e metteva la fattura e se richiesto metteva anche la stampa nella bolletta di tutto il traffico che era stato effettuato da quell'utenza quindi diciamo almeno due mesi e qualche giorno due mesi e mezzo almeno due mesi in realtà lo teneva molto di più siccome non c'era ancora nessun normativo sulla privacy al tempo per dover cancellare i dati dopo 24 e 48 mesi l'errore lo tenevano per sempre io so hanno ritirato fuori delle telefonate dei mafiosi fatte vent'anni prima ottimo direi e non siamo riusciti le leggi sul privacy nel 2005 la cosa non si poteva in teoria non si poteva più fare certo che poi lo facessero realmente ho qualche dubbio che realmente cancellassero i dati non lo so certo però qui la richiesta mi pare che non sia di 15 anni dopo ma al limite è di una settimana dopo quindi uno sforzino lo potevano fare la richiesta dunque sappiamo che il traffico uscente era perfettamente documentato il traffico entranti cioè il traffico uscente allora chi stabiliamo una cosa c'è il telefono ha un doppino telefonico che va su una centrale la centrale è quella che prende nota del numero chiamante del numero chiamato e fa due cose in strada intanto devi in strada la chiamata alla prossima centrale per cui deve decidere su quali dei suoi fili devo far uscire quella chiamata e intanto si registra l'ora data e ora in cui è iniziata la chiamata poi il numero chiamato chiamante viene trasportato insieme alla prossima centrale fino all'ultima centrale l'ultima centrale invece lo mascherava cioè a suo tempo non si voleva far vedere il numero chiamante per cui l'ultima centrale mascherava il numero chiamante e si vedeva e tutte le telefonate erano diciamo anonime però il numero di chiamante in realtà arrivava infatti mi ricordo benissimo che se faceva un trasferimento di chiamata su un cellulare io il chiamante lo vedevo se era una centrale numerica se era una centrale meccanica vedeva soltanto il prefisso mi arrivava da Monza un paesino sperduto 0439 che sono in montagna siccome la centrale non era numerica vedeva soltanto il prefisso comunque il numero del chiamante arrivava solo che aveva mascherato questo è andato avanti fino a fine anni 90 poi dopo hanno liberalizzato per cui si è potuto vedere anche il numero il numero chiamante sui cellulari su tutti per esempio io poi in quegli anni avevo un telefono ISDN a casa ISDN ha sempre avuto il numero chiamante aveva un display in cui vedevo il numero del chiamante anche se mi chiamavano dalla rete fissa POTS cioè il pre-inhold telephone system cioè il chiamante arrivava soltanto veniva mascherato dall'ISDN invece non veniva mascherato io lo vedevo tranquillamente sul mio display dell'apparecchio quindi a parte questo cosa fa io vediamo un'informativa firmata da Del Greco e da Cavaliere in cui dice che no no Del Greco un altro ispettore dunque poi il dirigente è la Cavaliere Nicola Cavaliere che dice che alla nostra richiesta la tiene come risposto che non si può avere traffico entrante uscente retroattivamente più o meno questa formula cosa abbiano richiesto la questura alla Telecom non ci è dato a sapere sappiamo questa è stata la risposta quindi se per esempio la questura aveva chiesto il traffico uscente entrante uscente da quella linea uscente magari si poteva dare entrante non tanto almeno la Telecom non dava di ufficio per cui magari dice vabbè io ti ho detto entrante uscente non si può non ti dico però entrante sì uscente no cioè uscente sì entrante no magari avrei potuto nascondersi dietro questa foglia di fico e dire va bene quello che mi hai chiesto non te lo posso dare però non ti dico potrei darti quest'altro a differenza di quello che mi hai chiesto a parte che il traffico uscente il traffico diciamo il numero chiamante si sarebbe potuto ottenere facilmente io stiamo a tutte le telefonate di Roma d'Italia non faccio altro che vedere chi ha chiamato quel numero e scopo chi è il numero chiamante ed è un lavoro che fa un computer lo fa in pochi secondi tutte le telefonate d'Italia di un giorno stanno in gigabyte forse anche meno ci metto un attimo a trovare basta organizzarsi un attimo sul computer della telecom anche il numero chiamante anche se è mascherato io trovo chi ha chiamato e lo trovo con questa procedura volendo si sarebbe potuto fare tutto si può fare volendo però io adesso allora ho intuito una cosa ma allora chiaramente gli amici della questura di Roma tutte queste cose non le sapevano quindi loro hanno agito in buona fede per cui hanno preso per buono o almeno così ci vogliono far credere poi non sappiamo come sono andate le cose certo però diciamo sappiamo con certezza che la telecom non aveva nessuna voglia che la magistratura venisse a mettere le mani sulla sua ok tutti i contenziosi che aveva aperti se danno questo esempio per qualsiasi magistrato d'Italia può dire ecco io sequestrami l'utenza di questo di questo signore il traffico e voglio vedere chi se è vero che la bolletta milionaria è stata gonfiata per qualche motivo quindi non c'era questo spirito collaborativo fra telecom e magistratura che in voi poi c'è un po' negli anni successivi sarebbe cambiato completamente l'aspetto perché a questo punto non guadagnava più sulle bollette gonfiate guadagnava sulle intercettazioni quando fanno 9 milioni di intercettazioni l'anno facendoli strappagare è chiaro che la telecom ha tutto l'interesse a collaborare con la magistratura e quindi diciamo che bisogna la convincerla ho capito ecco sul fatto del tre giorni dopo in realtà c'è un'informatia precisa cioè quando il PM Cavallone riprende in mano le indagini nel 2004 convoca il dirigente della telecom che è responsabile delle centrali e questo gli dice in effetti è vero si poteva ottenere per un certo tempo non specifica quanto il traffico uscente veniva conservato quindi il fatto che siano tre giorni non so da dove si è uscito in base alla fatturazione dovrebbe essere tenuto come minimo due mesi e questo è lo stato delle cose chiaro insomma se avessero chiamato lei all'epoca dei fatti lei avrebbe spiegato no dovete insistere chiedetegli almeno quelle uscenti poi per quelle entranti possiamo fare in quell'altro modo oppure chiedevano a qualsiasi ragazzo che lavorava in telecom gli avrebbe detto come stavano le cose anziché la cosa strana è che questa risposta Sibillini è arrivata dalla direzione generale telecom per quale motivo la direzione generale aveva dovuto scomodarsi a riunire il consiglio dell'amministrazione per dire dare questo tipo di risposta alla questura di Roma e la cosa è già sospetta di per sé che sia la direzione generale non qualsiasi ufficio interno a risponderti in questo modo così altisonante faraltro che non lasciare tutti i tuoi dubbi non si può e basta certo grazie grazie anche anche un altro mistero è stato risolto allora risolto non si sa come perché si è arrivata quella risposta tecnicamente sappiamo che c'era la possibilità per un certo tempo c'era anche se fosse stati veramente tre giorni il fatto che non lo sapessero la questura di Roma direi che è piuttosto grave perché chissà quanti altri casi sarebbe servito avere il tracciato delle chiamate uscenti o entranti o entrambe le cose però si vede che non c'era ancora la cultura di fare questo tipo di indagini è vero è vero grazie ancora al professor Ballabio che ci ha aperto gli occhi anche sul mistero dei tabulati di via Poma e buona continuazione con i nostri programmi buonasera secondo me professore grazie a tutti